Buone notizie per il comparto produttivo di Sant'Andrea in Casale nel comune di San Clemente e di pochi giorni fa infatti la notizia della firma sul lato di vendita che porterà in dote ad Isolcasa, leader nella produzione degli infissi, un lotto di 14.000 m2 grazie al quale potenziare la propria attività. L'azienda sede e stabilimento madre a San Giovanni in Marignano potrà esercitare entro i prossimi tre anni il diritto d'opzione per altri 4.000 m2 inserita come previsione urbanistica. L'accordo di programma sottoscritto nel 2009 tra provincia di Rimini, comune e società Sant'Andrea e servizi spiegano la zona industriale di San Clemente copre oggi un'area di oltre 80 ettari. Il compito di attrarre imprenditori e rendere così operativa l'area anche attraverso la realizzazione delle necessarie reti infrastrutturali spetta la società Sant'Andrea e servizi, braccio operativo dell'amministrazione che oltre ad annunciare la firma dell'accordo di Isolcasa ha già anticipato l'interesse di un'altra impresa sempre di rilevanza nazionale per un lotto di quasi 16.000 m2. Non possiamo che salutare con enorme soddisfazione la firma del contratto di Isolcasa, ha dichiarato il sindaco Marina Cecchini a dimostrazione dell'impegno ribadito nel tempo da comune Sant'Andrea e servizi propri allo scopo di innescare sulla zona industriale i migliori interessi imprenditoriali. Non nascondo le difficoltà ancora da affrontare, aggiunge il primo cittadino. Siamo sia all'inizio ma i segnali positivi, dice, confortano e confermano la bontà della direzione intrapresa. Caparbietà e spirito di servizio hanno premiato l'attività svolta dalla Giunta, conclude capace di dare un colpo d'acceleratore ed imprimere un cambio di passo sull'onda dell'esperienza acquisita, mettendosi alle spalle pure l'avversità di natura giuridica.